Cane da caccia? Cane da ferma? No, non bastano queste definizioni. Perché ci sono razze da caccia e razze che sono molto più di questo. Ci sono i miti, i cani divenuti simboli, icone, veri e propri stili di vita. Ma se ce n'è uno che spicca anche all'interno di questa nicchia già elitaria, se c'è un cane che rappresenta davvero una cultura e un modo di essere, questo è sicuramente il setter inglese. D'altronde lo stesso setter inglese è un'opera d'arte vivente. La sua bellezza e il suo fascino non hanno uguali nel mondo della cinofilia venatoria, e non solo. Esiste anche uno standard americano, redatto dall'American Kennel Club, che viene spesso interpretato in senso più estetico che funzionale, badando soprattutto alla creazione di spettacolarissimi cani da show. La società italiana Setters ha adottato invece lo standard di Cajelli, che peraltro non toglie proprio nulla il fascino estetico, se non le inutili esasperazioni. Nonostante questo, anche negli show italiani comincia a imporsi il cosiddetto tipo americano. Cani molto grandi, dal pelo lunghissimo, con frange estremamente appariscenti. Il segreto naturalmente sta proprio nella perfetta fusione tra abilità venatoria e fascino estetico, che sta alla base del nostro standard. Il setter inglese deve unire la potenza senza pesantezza all'eleganza delle forme. Il suo aspetto deve denotare l'attitudine al lavoro. Non tutti sanno che in Italia, prima di diventare il cane da caccia più amato e diffuso, il gentle dog inglese fu guardato con diffidenza proprio a causa dell'eccessiva bellezza. All'inizio dell'Ottocento, il setter più apprezzato e diffuso era il Gordon, per chi a quei tempi, abile a caccia, doveva essere sinonimo di rustico. L'eleganza e lo stile sembravano contrastare con la capacità di essere un buon cane da carniere, e l'inglese era considerato un cane da signorine, più interessate all'estetica che alla caccia. Col tempo, le grandi qualità venatorie della razza hanno finito per conquistare anche i cacciatori più pratici. Il setter inglese si è rivelato un ausiliario duttile, facilmente addestrabile e capace di conciliare perfettamente stile e carniere. Il nostro eroe in realtà sa adattarsi perfettamente al ruolo di allegro giocherellone di casa. Dolcissimo e molto equilibrato, sa essere un eccellente compagno anche per chi non ama affatto la caccia, purché ovviamente non si dimentichino le sue esigenze e gli si permetta di fare la giusta dose di moto. Il setter è un grande estroverso, che ama manifestare i sentimenti in modo eclatante. Se è felice, ve lo dimostrerà con grandi feste e scodinzolii. Se è un po' triste, assumerà espressioni da cane più disperato del mondo, perché lui è sempre sopra le righe, nel bene e nel male. Riservatezza non è proprio un termine che gli si addice, mentre simpatico, buffo e divertente sono vocaboli molto usati da chi l'ha scelto come compagno di vita. Il cane che vive una ricca vita e completa, stringe con il padrone un rapporto molto più forte del cane da boxe, impara ad amarlo, oltre che a rispettarlo, e diventa sempre più desideroso di compiacerlo. Il setter inglese, se gli si permette di vivere accanto al padrone, è perennemente a caccia di coccole. Eppure lo stesso cane che sonnecchia sul tappeto di casa, sa trasformarsi sempre che si è dotato delle giuste qualità naturali, in un ottimo ausiliario del cacciatore. Una componente fondamentale del carattere del setter inglese è la sua altissima sociabilità. Sono cani che soffrono la solitudine e che non dovrebbero mai essere abbandonati a se stessi. Se siete persone giovani, attive e dinamiche, che pur non andando a caccia, amano passeggiare in campagna, nei boschi, pensate al setter inglese. Qualche volta è possibile etichettare le razze canine, ed è per questo che termini come stile, eleganza, simpatia e bellezza sono ormai sinonimi di setter inglese per migliaia di appassionati in tutto il mondo.